Ciao a tutti, giorno 10. Vabbè, lasciate stare come stanno i pinguini adesso perché sono malati, come si può vedere. Sì, come al solito, quando torno a casa bene o male, almeno la metà sono malati. I dinosauri li ho già guardati, per cui stanno benino, ma gli altri devo ancora fare il giro di tutti e controllare come stanno. Penso che ormai essendo il giorno 10 dovremmo essere agli sgoccioli, cioè ormai la loro evoluzione è terminata, per cui siamo verso la fine. Se non ricordo male l'altra volta con cui ho giocato con questo widget, avevo questo dinosauro, mi pare che sia morto al dodicesimo giorno, o undicesimo-dodicesimo. Per cui, sì, ormai dovremmo essere alla fine. Per cui, vabbè, per oggi non ho nient'altro da aggiungere. Vedremo domani se sono ancora vivi o se saranno morti per vecchiaia o per altre cose, o altre cause. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata! Grazie! Grazie!